Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Io vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudentur Iesus et Maria Carissimi amici, benvenuti o bentornati o ben ritrovati a questo ciclo di catechesi sulla figura di Giuda, sul mistero di Giuda, giunto alla tredicesima puntata. Ricordo per chi ascoltasse o vedesse per la prima volta questo ciclo di catechesi che si tratta di un testo, lo mostro perché così chi lo vuole acquistare e che vedrà il video, è edito ovviamente dal centro editoriale valtortiano, si chiama appunto il mistero di Giuda, Maria Valtorta l'autrice e raccoglie tutti i passaggi degli scritti valtortiani in cui c'entra in qualche modo la figura di Giuda. Ricordo sempre anche che sono ben ben 712 pagine, in 13 puntate ne abbiamo fatte 89 quindi a occhi e croce arriveremo forse a 100 puntate di questo ciclo di catechesi, quindi avremo certamente molto su cui riflettere, sperando che il Signore ci conceda la grazia di portarlo a conclusione. Affidiamo questo incontro, ecco, all'intercessione di Maria Santissima, stiamo nella novena alla Madonna di Pompei, di cui chi vi parla è particolarmente ovviamente devoto, non solo per il cognome che porta ma anche perché la data dell'8 maggio è stata per me decisiva per tante vicissitudini di vita, insomma, dalla consagrazione totus tu, sull'ordinazione diaconale, l'ordinazione presbiterale, quindi non so cosa altro possa succedere l'8 maggio, insomma, di bello per la mia vita, quindi partecipo con voi questa piccola giuda. Adesso cominciamo però la lettura, due avvisi, puntoprimo soprattutto agli utenti di Instagram e anche della chat, invece gli utenti TikTok sono momentaneamente silenziati, niente domande durante il corso della diretta, al termine della diretta, con cose che non andranno poi ovviamente nelle registrazioni, sarà possibile interloquire, intervenire da tutte le piattaforme e anche dall'apertura del canale Telegram per le domande in diretta e a viva voce. Un'altra cosa molto importante per chi ascoltasse i podcast, volevo avvertire, io sto già provvedendo, che Google chiuderà la piattaforma di Google Podcast molto popolare entro giugno-luglio di quest'anno, però attraverso YouTube Music, quindi attraverso il canale YouTube, permette già adesso attraverso i feeder RSS di caricare dei podcast e quindi di fare una migrazione dei podcast da Google Podcast a YouTube Music. Già adesso si trovano un pochino di podcast sul mio canale YouTube e ovviamente ascoltabili anche in versione esclusivamente parlata, quindi con un'applicazione gratuita, come lo è Google Podcast, non serve fare abbonamenti, ma che è appunto YouTube Music. Avverto perché chi usa queste piattaforme, se qualcuno dovesse usarle, tra un po' sparirà proprio Google Podcast, quindi sono finiti gli Google Podcast di Leonardo su Google? No, non sono finiti, sono trasferiti su YouTube Music. Adesso piano piano, perché sono una marea di podcast, entro luglio sarà completata la migrazione, ce ne sono già 4-5 cicli e piano piano adesso li manderò tutti piano piano, perché ovviamente anche questo è un altro lavoro in più, oltre tutti ieri che ci stanno, però con l'aiuto di Dio faremo anche questo. Allora, puntata di oggi. Egli deve esserci per necessità e come lezione. Introduzione sottotitolo, Gesù con i tre discepoli è ospite di un contadino in una campagna opima, deve avere ammaestrato ed ora conversa con il contadino che si mostra edificato dai suoi insegnamenti. Ora le tue parole maestro, noi le beviamo come un assetato, d'estate beve acqua e miele presa da fresca anfora. Vai proprio via domani maestro? Sì domani, ma tornerò ancora per ringraziarti di quanto hai fatto per me e questi miei e per chiederti ancora un pane e un riposo. Sempre maestro qui li troverai. Si avanza un uomo con un asinello carico di verdure. Ecco, se il tuo amico vuole andare, il figlio mio va a Gerusalemme per il grande mercato di Parasceve. Vai Giovanni, tu sai quanto devi fare. Fra quattro giorni ci rivedremo. La mia pace sia con te. Gesù abbraccia Giovanni e lo bacia. Anche Simone fa lo stesso. Maestro, dice Giuda, se tu lo permetti, andrei con Giovanni. Mi preme vedere un amico. Ogni sabato è a Gerusalemme. Andrei con Giovanni sino a Betfage e poi andrei per conto mio. È un amico di casa. Sai, mia madre mi ha detto non ti ho chiesto nulla. Amico, ribatte Gesù. Mi piange il cuore a lasciarti, dice Giuda. Ma fra quattro giorni sarò con te di nuovo e sarò così fedele che ti verrò anche a noia. Vai pure all'alba che sorgerà fra quattro giorni. Siate alla porta dei pesci. Addio e Dio ti vegli. Giuda bacia il maestro e se ne va vicino al ciuchino che trotterella per la via polverosa. La sera scena sulla campagna che si fa sileziosa. Simone osserve il lavoro degli ortolani che irrigano i loro solchi. Gesù è rimasto al suo posto per qualche tempo. Poi si alza, gira dietro la casa, si dilunga per il frutteto, si isola, va sino ad un folto in cui melograni poderosi sono intersecati a bassi cespugli, che direi di uva spina, ma non so di preciso, perché sono spogli di frutti e poco conosco la foglia di questa pianta. Gesù si nasconde là dietro, si inginocchia, prega e poi si curva col volto contro il suolo sull'erba e piange. Me lo dicono i suoi sospiri profondi e spezzati. Un pianto sconfortato, senza singhiozzi, ma tanto triste. passa del tempo così. La luce è ormai crepuscolare, ma non è ancora così buio da non poter vedere. E nella poca luce ecco spuntare da sopra un cespuglio la faccia brutta e onesta di Simone. Simone Lozelote, anche perché era stato lebroso, Maria Valtorta dice che era veramente un uomo, un santuomo, saggio, onesto, è uno dei pochi, di quelli che durante la passione di Gesù, questo non c'è nei Vangeli, ma c'è nell'opera di Maria Valtorta, fa insieme a San Giovanni, un po' meno di San Giovanni, ma la meno peggio figura, tra le altre cose. Però dice che era proprio brutto, esteticamente era proprio rovinato da un punto di vista estetico. Guarda, cerca e distingue la forma rannicchiata del maestro, tutto coperto dal manto blu scuro, che lo annulla quasi nelle ombre del suolo. Solo ha spicco la testa bionda, e le mani congiunte a preghiera, che sporgono al di sopra del capo, al quale i polsi fanno da appoggio. Simone guarda con i suoi occhi piuttosto bovini, capisce che Gesù è triste per i sospiri che trae, e la sua bocca, dalle labbra tumide e persino violacee, si apre. Maestro, chiama, Gesù alza il volto. Tu piangi, maestro, perché? Mi permetti di venire? Il viso di Simone è tutto stupito, è accorato. È un brutto uomo, decisamente. Qui rincana la voce. Alle fattezze non belle, al colorito olivastro scuro, si unisce il ricamo bluastro e incavato delle cicatrici lasciate dal suo male. Ma ha uno sguardo così buono che la bruttezza scompare. Vieni, Simone, amico, dice Gesù. Gesù si è seduto sull'erba. Simone gli siede vicino. Perché sei triste, maestro mio? Io non sono Giovanni e non saprò darti tutto quanto ti dà lui, ma hai in me il desiderio di darti ogni conforto. E ho solo un dolore, quello di essere incapace di farlo. Dimmi, ti ho forse spiaciuto in questi ultimi giorni al punto che il dovere stare con me ti accascia? No, amico buono, non mi hai mai spiaciuto dal momento che ti ho visto e credo che non mi sarai mai cagione di pianto. E allora, maestro, non sono degno delle tue confidenze, ma per l'età quasi ti potrei essere padre. E tu sai che sete di figlio ho sempre avuto. Lascia che io ti accarezzi come fossi un figlio e che ti faccia in quest'ora di pena da padre e da madre. E' di tua madre che tu hai bisogno per dimenticare tante cose. Oh sì, risponde Gesù, è di mia madre. Ebbene, in attesa di poterti consolare in lei, lascia al tuo servo la gioia di consolarti. Tu piangi, maestro, perché ci fu chi ti spiacque. Da più giorni il tuo viso è come sole o fuscato da nubi. Io ti osservo. La tua bontà cela la tua ferita. Perché noi non si odi colui che ti ferisce, ma questa ferita a due ore ti dà nausea. Ma dimmi, mio signore, perché non allontani la sorgente della pena? Risposta. Perché è inutile umanamente e sarebbe anti-carità. Ah, risponde Simone, tu hai capito che io parlo di Giuda? È per lui che soffri. Come vuoi tu, verità, sopportare quel menzognero? Egli mente e non cambia colore. È falso più di una volpe. Chiuso più di un macigno. Ora è andato via. Che va a fare? Quanti amici ha egli mai? Mi vuole lasciarti, ma vorrei seguirlo e vedere. Oh, Gesù mio, quell'uomo allontana lo signore mio. risposta è inutile. Quello che deve essere sarà. Che vuoi dire? Nulla di speciale. Tu lo hai lasciato andare volentieri perché ti sei ripugnato del suo modo digerico. è vero, Simone. Io ti dico ancora, quello che deve essere sarà. E Giuda è parte di questo futuro. Vi deve essere anche lui. Ma Giovanni, interloquisce Simone, mi ha detto che Simon Pietro è tutto schiettezza e fuoco. lo sopporterà costui? Risponde Gesù. Lo deve sopportare. Pietro è destinato anche lui ad una parte. E Giuda è il canovaccio su cui egli deve tessere la sua parte. O se più ti piace, è la scuola in cui Pietro si farà più che con ogni altro. Che dobbiamo fare, figlioli miei cari? Dice Gesù, non si discute. Essere buoni con Giovanni, capire gli spiriti come Giovanni, è virtù anche degli ebeti. Ma essere buoni con chi è un Giuda e saperli capire gli spiriti come quelli di Giuda ed essere medico e sacerdote per essi è difficile. Confermo. La sacerdote è difficile. Non voglio contraddire il nostro Signore, ma dal punto di vista umano, quando ci si passa, più che difficile. Giuda è il vostro insegnamento vivente. Il nostro. Obietta Simone. Sì, il vostro. Il maestro non è eterno sulla terra. Se ne andrà dopo aver mangiato il più duro pane e bevuto il più aspro vino. Ma voi resterete a continuarmi e dovete sapere perché il mondo non finisce col maestro, ma dura oltre, sino al ritorno finale del Cristo e al giudizio finale dell'uomo. e in verità ti dico che per un Giovanni, un Pietro, un Simone, un Giacomo, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, vi sono almeno altrettante volte sette Giuda. E più, più ancora. Simone riflette e tace poi dice i pastori sono buoni. I pastori, qui si parla dei pastori, quelli che erano ancora superstiti, di quelli che avevano fatto la visita a Gesù il bambino a Betlemme, sono questi i pastori dell'opera di Maria Valtorta. Giuda li sprezza, ma io li amo. Gesù risponde io li amo e l'odo. Sono animi semplici, come piacciono a te, dice Simone. Giuda è vissuto in città, cerca di scusare Gesù. Sua unica scusa, risponde Simone, ma tanti lo sono vissuti in città, eppure, quando verrai dal mio amico, allude a Lazzaro di Betania. Simone era un grande amico di Lazzaro. E attenzione, qui, come è l'amico, tale sarà il cuore dell'amico. Perché chi sono i due uomini di fiducia scelti da Gesù in occasione della passione, Simone, lo zelota e Lazzaro, incaricati di andare a ripescare gli apostoli, di riunirli, di andare a raccattare i pezzi sparsi in giro, secondo l'opera di Maria Valtorta. Domani, Simone, e ben volentieri, perché siamo io e te soli, penso sia un uomo colto ed esperto come te. Vedete che qui si capisce che Gesù ancora non aveva umanamente conosciuto Lazzaro, che ha avuto la grande sorte, certo che beato lui, qui intorno alla storia, di essere il miglior amico, di essere l'amico di Gesù. Lazzaro non era apostolo, non era discepolo, in senso stretto, certamente lo era in senso, ma non era tra i 72, tra l'altro un outsider, quindi un, cioè, Lazzaro non è che era ricco sfondato, ma proprio di più è, cioè, l'altro giorno leggevo nella catechesi di Maria di Magdala, come dire, il pranzo che avevano fatto la, 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 i cinque giorni prima che Gesù andasse a fare, a partire la passione, quando Maria di Magda l'ha spaccato il vasetto di alabastro, cioè, le descrizioni meticolose di Maria Valtorta, i vassoi d'argento, cioè, le stoviglie, i marmi per terra, quindi, cioè, però, era, era il miglior amico di, di Gesù, uno dei pochi, per cui, eh, la stragrande abbondanza di beni e anche una certa influenza sociale, perché era amico anche stimato e ritenuto dai romani, che significava, insomma, tanta roba a quei tempi, non aveva minimamente intaccato la sua bontà, la sua umiltà, la bellezza della persona che era, cosa rarissima, e infatti, Gesù dice che è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli, non impossibile, quindi, ma è una cosa molto rara, vabbè, penso sia un uomo colto ed esperto come te, signore risponde, è molto sofferente, nel corpo e più nel cuore, maestro, ti vorrei pregare di una cosa, se non ti parla delle sue distristezze, tu, non interrogarlo sulla sua casa, non lo farò, io sono per chi soffre, oh, ma non forzo le confidenze, adesso parliamo di tutto, il pianto ha il suo pudore, ed io non l'ho rispettato, qui interloquisce Simone pensando di avere mancato nei confronti di Gesù, ma mi hai fatto tanta pena, ma tu sei mio amico, e già avevi dato un nome al mio dolore, io per il tuo amico sono il rabbi sconosciuto, quando mi conoscerà, allora andiamo, la notte è venuta, non facciamo attendere, gli ospiti che stanchi sono, domani all'alba andremo a Betania, io faccio uno stop, mi attappo gli occhi, perché c'è una conclusione dove c'è il commento di Gesù, io non lo leggo e non lo voglio leggere, perché prima mi avventuro io, nonostante ci sia un tanto doverevole commento, a far notare, a far rilevare qualcosa, allora, sicuramente alcune frasi emblematiche, è inutile umanamente sarebbe carità, è inutile quello che deve essere sarà, lo spiegherà anche bene Gesù, attenzione a non intendere però queste cose lo dico subito in maniera distorta o peggio ancora fatalistica, chiariamo subito una cosa, il destino secondo l'accezione comunica di questo termine, cioè una sorte predefinita e ineluttabile, cioè non esiste nella visione cristiana delle cose, perché tutto dipende sempre dalla nostra libera volontà, è ovvio che qui Gesù parla in quanto Dio, quindi era una domanda che mi hanno fatto anche in diretta in questi giorni durante la fine di qualche diretta, il fatto che Dio conosca e conosca in maniera infallibile il futuro e quindi cioè io mi sono sempre chiesto è stato difficile per il verbo fatto carne, presumo continuare ad operare insomma anche da uomo sapendo che tanto era tutto inutile però come ho spiegato durante la risposta a questa domanda il fatto è che Dio ci tratta come se non lo sapesse il futuro facevo un esempio cioè noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla però se uno ci pensa troppo a questa cosa corre il pericolo di cadere nell'eresia del quietismo cioè siccome senza la grazia di Dio non posso fare nulla io mi siedo aspetto che arriva la manna dal cielo o che arriva la grazia o che Dio faccia le cose a posto mio quindi questa verità che deve essere tenuta se uno la intendesse in questo modo diventerebbe dannosa e controproducente per questo Sant'Ignazio diceva fai come se tutto dipendesse da te sapendo che niente dipende da te Dio con noi come dire applica questo principio in questo modo cioè lui conosce il futuro già sa chi sarà dannato però agisce come se non lo sapesse perché perché siccome noi siamo realmente liberi lui deve praticamente fare attenzione diciamo così curare due cose primo che la persona stessa al termine della sua vita quando si troverà davanti a Dio nel giudizio particolare possa vedere non che Dio sapeva la brutta fine che ha fatto ma tutti gli aiuti che Dio gli ha dato per impedire che facesse quella brutta fine perché chi si danna si danna solo per colpa propria e non è che si danna per colpa propria perché lo dice Don Leonardo o perché lo dice Dio di autorità è colpa tua no no il dannato lo vedrà che è colpa sua e lo vedrà in maniera tale che ciò costituirà motivo di rimorso per tutta l'eternità prima cosa seconda cosa questo Gesù lo spiega più avanti nell'opera di Maria Valtorta perché guardate che Dio agisce sempre da Dio per questo che le opere di Dio non dobbiamo mai giudicarle per nessun motivo perché qualunque giudizio ci azzardiamo a fare su una minima cosa voluta e permessa da Dio ci cadrà addosso al cento per cento ci rimangeremo la lingua al cento per cento è meglio stare zitti muti molte cose sono più grandi di noi non le capiamo e allora stiamo muti che è meglio che ci facciamo una bella figura muti al giudizio universale questa cosa la vedranno tutti cioè tutti vedranno per esempio di Giuda che Giuda che sta sprofondato nell'inferno in braccio a Satana perché sta proprio vicino a lui perché è il più grande peccatore che si è mai esistito ed è bestemmia intollerabile dire ma chi lo sa se Giuda si è dannato possiamo sperare come lo è dire speriamo che l'inferno sia vuoto come fece un teologo negli anni passati sono bestemmie queste qui che cosa devi sperare tu non puoi sperare contro la parola di Dio che ti speri ma se Gesù Cristo ha detto il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo viene fatto fuori sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato ma come fai a dire speriamo che Giuda si sia salvato ma scusate io veramente non lo so a certa a certa gente non saprei neanche come definirlo dico ma ti funziona o non ti funziona il cervello o non capisci l'italiano o non credi che Gesù Cristo è Dio guardate che è una di queste tre perché se non ti funziona il cervello vabbè se non capisci l'italiano leggitelo in greco il testo greco oppure se ti piace il latino leggi di la vulgata fa qualcosa oppure non credi che Gesù Cristo è Dio così come come fa a dire che l'inferno è vuoto se Gesù nei Vangeli ne parla non come una realtà che è vuota ma come una realtà che è piena e in tantissimi luoghi uno per tutti il capitolo 25 di Matteo di San Matteo giudizio universale se ad alcuni dice venite da me benedetti e ad altri dice via da me maledetti nel fuoco eterno preparati dal tuo cioè quindi io potrei sperare dinanzi a queste parole che l'inferno sia vuoto dico non lo è però speriamo che lo sia ma che razza di discorso è vale quello che ho detto prima no? o non capisci l'italiano o non ci stai con la testa oppure non credi che Gesù Cristo è Dio non lo so poi durante le domande se qualcuno ha una ulteriore risposta me la dia che potrà sicuro non ci arrivo io quindi attenzione alle opere di Dio poi Gesù spiega un senso di Giuda uno dei sensi che un soggetto di questo genere è come dire il banco di formazione perché guardate che lo vedremo delle volte questo soggetto era proprio insopportabile io non lo so come non gli ha nominato perché proprio te le tirava fuori con le con con le pinze e Pietro che non lo poteva sopportare ci sono delle scenette lo vedremo lo vedremo più avanti che accumulava un tale grado di nervosismo di rabbia per non spaccargli la faccia prendeva delle mazze per strada e cominciava a dare mazzate agli stadi di erba per sfogare e una volta me lo ricordo ma tanto sicuramente lo incontreremo in quest'opera Gesù gli disse grazie Pietro se ne è accorto che stava scoppiando e anziché spaccare la faccia giù dopo rispondergli male ha preso sto bastone e ha cominciato a menabotte a quelle povere erbe del protesta manca quindi tutto ha un senso nell'ordine del cosmo ma noi purtroppo dobbiamo semplicemente ogni tanto ricordarci che siamo dei poveri esseri umani e non possiamo competere con la sapienza dell'altissimo fa anche impressione vedere in questo brano Gesù che piange su che cosa piangerà azzardo perché a volte viene da piangere un po' pure a me sul mistero della volontà umana quando si indurisce quando si impazzisce in maniera colpevole ovviamente quando sprolochia quando sragiona e quando si manifesta come inconvertibile come nel caso di Giuda se c'è una cosa come ben sappiamo io l'ho ripetuto fino alla nausea che Dio non farà mai è il forzare le volontà perché Dio non ti porta in paradiso per forza non ti ci porta le stupidaggini le stupidaggini che io a volte leggo in giro anche in qualche commento in qualche social o in qualche short quando mi arriva per carità senza nessuna offesa personale per me perché a me ne possono dire un sacco una sporta mi raccomando di fare attenzione non tanto per la mia umile persona che si merita qualunque cosa ma essendo io un sacerdote il nostro signore non è molto contento quando si mi stratta un sacerdote per il fatto che è sacerdote punto a prescindere dalle altre cose quindi io raccomanderei come dire moderazione e prudenza per questo motivo però si dica leggo a volte quando mi arriva qualche cosa perché grazie a Dio c'è qualcuno che mi aiuta nella moderazione di queste cose cioè delle cose che sono veramente inqualificabili cioè di gente che completamente proprio che sragiona e che ha perso completamente il senno sempre i soliti mantra è Dio la misericordia Dio è qua Dio è là uh che ha detto sto prete ah se le questano questo è il terrorista è l'immagine di Dio ah con queste immagini di Dio che tu proponi la gente finisce ad andarsene dalla chiesa io non propongo proprio niente io io non propongo proprio io non ho niente da proporre io non ho nulla da dire a nessuno questo sia ben chiaro zero perché tutto quello che dico per quanto mi riguarda e almeno per quanto riguarda la mia coscienza la mia consapevolezza oggettiva vi ricordate cosa ha detto Gesù nel Vangelo la mia dottrina non è mia ma di quello che mi ha mandato per carità io non sono a livello del maestro potrei tranquillamente sbagliarmi potrei prendere lucciole per lanterne ma se io dovessi in coscienza dire che qualche volta me ne sono uscito con idee mie almeno in maniera consapevole e volontaria io direi mi sembra di no o quantomeno non è mai stata mia intenzione farlo perché non te la prendere con me io sono un ministro che significa ministro un servo un sacerdote non esiste come San Giovanni Battista lui deve crescere io devo diminuire non mi interessa né avere followers né avere seguaci tanto o meno seguaci che è un termine che a me proprio detesto né avere lodi né avere seguiti non mi interessa nulla ho detto 100 miliardi di volte e lo ripeto che se Dio mi desse il permesso io sparisco dalla circolazione faccio un blackout alla Bilbo Baggins d'accordo chi è che ha visto la compagnia dell'anello quando lì fa il compleanno se mette l'anello al dito scompare davanti a tutti è finito Bilbo Baggins oh ma subito capite se si potesse quindi se qualcuno si deve prendere con me prendetela pure con me ma non credo tu pensi che sono io l'oggetto ma se te la prendi con me per quello che hai sentito io farei un pochino di attenzione perché ripeto io cerco di essere fedeli a quello che ho imparato e udito dalla Sacra Scrittura dal Santo Magistero vero e autentico della Santa Chiesa e dalla dottrina e dall'insegnamento di santi e dottori questo è quello che cerco di fare che ho sempre cercato di fare non è detto che ci riesca per carità questo aspetta addio il giudizio o se uno preferisce dato che ieri era il 5 maggio ricordate la poesia di Manzoni no? quella su Napoleone sulla morte di Napoleone che ad un certo punto li contiene la famosa sentenza ai posteri l'ardosentenza no? è riferito a Napoleone se questo era un flagello oppure un grande uomo della storia ecco quindi un'altra cosa molto importante quindi Gesù piange Gesù piange non è un pianto come quello umano ma è veramente lui è stato veramente uomo quindi noi sappiamo evidentemente che Dio in se stesso non può subire passioni come noi non può essere soggetto a però in Cristo Dio nella seconda persona della Santissima Trinità ha conosciuto dal di dentro com'è la vita umana io sinceramente vedendo tante cose io soffro tanto ok non è mio potere molte cose cambiarle ma uno ci resta proprio male dispiacciono e non è solo il dispiacere ripeto per tante cose che uno vede farsi contro che vabbè le cose che danno più dolore a vedere come stanno messe certe persone e da sacerdote dico e io che gli faccio che gli posso fare dopo uno si sente pure in colpa perché noi siamo sempre limitati ma forse non sono un buon prete forse non sono un buon parroco forse non sono un buon pastore non ho fatto abbastanza perché ti dispiace vedere certe scene certe scene vedere certe cose vedere certi atteggiamenti brutti io per esempio a un certo punto Simone dice di Giuda una cosa che che questo era falso e lascialo via questo qua che questo è un falso è un è un finto ecco è per lui che soffri come tu puoi verità sopportare quel menzognero egli mente non cambia colore è falso più di una volta chiuso più di un macigno cioè purtroppo le persone false esistono tu però prendi un povero disgraziato come me io non sarei io non so che non so buono a fare certe cose non è virtù è proprio buono per cui per me che una persona sia doppia sia falsa consapevolmente quindi con premeditazione non perché magari uno si scorda le cose io su questo sono laureato maestro e quindi magari dice una cosa e poi ne dice un'altra perché si è scordato quello che ha detto prima quindi questo io sono il il master quindi il il master ma che una persona con premeditazione reciti cioè sia falsa per me è inammissibile lo capisco che non c'è che che ho un limite è giusto ma che era cioè la falsità la doppiezza la volpe no che fu cioè abbiamo visto la volta scorsa l'episodio della vendita dei gioielli di Agrae ma di che vogliamo parlare avete visto la scenetta che ha fatto no cioè l'astuzia diabolica quella è non è l'astuzia evangelica siate prudenti come serpenti è semplici come come le colobbe no quella è l'astuzia diabolica quella che tende a trarne che ti fa il tranello no che ti fa ordita premeditata e quel poveraccio di San Giovanni che gli stava vicino e quello era un'anima pura un'anima candida è inorridito questo è brutte cose però alla scuola con un soggetto del genere ci si forgia ci si forgia perché ti mette a dura prova la pazienza ti mette a dura prova l'essere pastore l'essere medico vedere se in qualche modo riesce a fargli qualcosa per correggere per farlo pensare per farlo riflettere eccetera no un'altra cosa importante che dice Gesù prima di dargli la parola e così chiudiamo in bellezza io non forzo le confidenze allora questo è un tema le confidenze non solo non si forzano ma manco si chiedono quando non si hanno cioè non è un modus santo e sano anche di operare e di relazionarsi le confidenze noi le facciamo volontariamente se quando come quanto e soprattutto a chi vogliamo domande dirette domande personali non si devono fare mai chi mi conosce mi segue io permetto sempre alle persone di interloquire con me di rivolgermi domande anche al termine delle catechesi delle dirette ma tutti sanno non mi fare domande personali e dirette perché non c'è risposta non c'è risposta non c'è perché sarebbe anti educativo d'accordo quindi io questa cosa non la faccio siccome la insegno non la faccio ok c'è un modus nei rapporti interpersonali anche con le persone che sono amiche anche con le persone che sono vicine che deve essere caratterizzato da un certo stile io personalmente sono letteralmente disgustato ok da certi modi di essere di fare di relazionarsi tipici per esempio dei social parolacce insulti cioè ma dico ma che razza di modo è lascia perdere che io sono prete ma non è modo con nessuno non è accettabile un tale modo di fare non bisogna rispondere a questi soggetti qui appena una persona si relazioni in questo modo se volete un consiglio bloccare bannare seduta stante non ci parlo proprio con te pregherò per te dopo che ti ho bloccato dirò una bella Ave Maria eventualmente ma cioè se tu ti relazioni in questo modo se tu scendi a questi livelli stacci pure e adesso andiamo a sentire cosa dice Gesù al commento di questo di questo brano Gesù dice poi piccolo Giovanni quante volte ho pianto con la faccia al suolo per gli uomini pianto con la faccia al suolo per gli uomini io ho un pensiero mio dico tu pensa se un giorno dovessi venire a salvere tanto sicuro sarà così che Gesù ha pianto qualche volta con la faccia al suolo per me per me proprio sarebbe la morte assoluta manco il purgatorio eterno mi consolerebbe da un dolore del mi consolerebbe almeno lo ripariamo in questo modo eppure è sicuro che è successo io sono sicurissimo che è successo dice anche per voi i buoni sono nella proporzione che vi era fra i buoni e Giuda e più uno è buono e più ne soffre ma anche per voi e questo dico specialmente per coloro che sono proposti alla cura dei cuori cioè noi preti è necessario imparare studiando Giuda tutti siete dei pietri voi sacerdoti e dovete legare e slegare ma quanto 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 spirito di osservazione e su questo dobbiamo parlare anche da Simone Lozelote che era molto bravo quanta fusione in Dio quanto studio vivo quante comparazioni col metodo del vostro maestro dovete fare per esserlo come dovete esserlo io quando sento queste cose tremo a qualcuno sembrerà inutile umano impossibile quanto il nostro sono i solidi che negano le fasi umane della vita di Gesù e di me fanno una cosa tanto fuori della vita umana da essere solo cosa divina ci sono c'erano adesso ci sono più eretici dall'altra parte ma i novelli monofisiti le dosie deutiche condannate dalla chiesa dal concilio di Calcedonia in particolare diceva ma siccome questo è Dio ma la natura umana è talmente più grande di quella scusate la natura divina è talmente più grande di quella umana che la assorbe ma che ti assorbe dove va allora la santissima umanità prosegue Gesù dove il sacrificio della seconda persona a vestire una carne o che in vero ero uomo fra gli uomini e perciò soffrivo di vedere il traditore e gli ingrati chi è stato tradito lo sa bene che cosa significa tradito tradito in senso stretto sa bene cosa significa questa cosa è una cosa orribile io penso che sia una delle esperienze più brutte che possa capitare durante un'esistenza e non parlo soltanto del tradimento che è una cosa orribile anche per esempio all'interno di un matrimonio per questo che l'adulterio un tempo era un peccato gravissimo e vai vai fai l'adulterio è proprio bello da far penitenza per tutta la vita una volta così funzionava perché è una cosa orribile il tradimento è proprio una cosa io non cioè veramente tre cose proprio non sopporto non sopporto non sopporto non sopporto la maleducazione la la cafonaggine la viltà la vigliaccheria e i giuda proprio veramente Gesù dice facciamo il banco di prova proprio per me c'è proprio uno sforzo eroico proprio odiare nessuno volere del male a nessuno ma proprio ciò che rappresentano queste cose per me è proprio una fatica fuori del comune e quindi anche Giuda soffriva di vedere il traditore anche Gesù soffriva di vedere il traditore e gli ingrati e perciò gioivo di chi mi amavo a me si convertiva Gesù era contento se qualcuno gli voleva bene o se qualcuno si convertiva e perciò fremevo e piangevo davanti al cadavere spirituale di Giuda vedete c'è un po' colto cadavere spirituale perché perché una volontà completamente distorta completamente fuori completamente refrattaria quando è che ha pianto anche Gesù ce lo dice adesso ho fremuto e pianto davanti al morto amico Lanzaro ma sapevo che l'avrei chiamato alla vita e gioivo di vederlo già con lo spirito del limbo qui qui avevo di fronte il demonio e più non dico purtroppo figlioli miei cari e questa è veramente una cosa inquietante brutta ci sono degli esseri umani che possono definirsi qui Gesù non parla mai a Vambera demoni incarnati purtroppo purtroppo ed è possibile attenzione però un demone incarnato non è che il demone decide di incarnarsi dove vuole ma che non esiste quando è che uno diventa ci si diventa demoni incarnati quando quando si accumono peccati su peccati peccati su peccati durezza su durezza indurimenti su indurimenti quando si sputa sopra grazie su grazie grazie su grazie grazie su grazie e si arriva a un punto i maestri spiriti l'hanno sempre detto quasi di saturazione per cui è sempre possibile anche per Giuda era possibile convertirsi pentirsi e tornare indietro ma quando la presa del nemico diventa così forte rimane possibile ma è concretamente no difficile no difficilissimo di più però si è arrivati a quel punto di saturazione per cosa propria e non bisogna arrivarci a quei punti di saturazione non bisogna mai essere così stupidi da aggiungere peccato a peccato fino a raggiungere il punto come dire il punto limite dell'indurimento del cuore come si chiama tecnicamente perché lì dopo diventa molto pericoloso tu seguimi Giovanni diamo agli uomini anche questo dono e poi beati quelli che ascoltano la parola di Dio e si sforzano di fare ciò che essa dice beati quelli che vogliono conoscermi per amarmi in loro e a loro io sarò benedizione non ci vuole tanto essere beati desiderio di conoscere di ascoltare la parola di Dio ovviamente in tutte le sue forme non solo attraverso la scrittura come fanno i protestanti di ieri e di oggi ma la parola di Dio scritta e trasmessa quindi scrittura tradizione e magistero e beati quelli che vogliono conoscermi per amarmi conoscere Gesù è la condizione imprescindibile per poterlo amare bene amici penso che possiamo fermarci abbiamo sentito anche questo bel dono delle considerazioni di Gesù in persona ci diamo appuntamento alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga vi permetto di ricordare agli utenti YouTube ecco che al termine della registrazione del video e come vedranno nel video introduttorio al termine se ritengono opportuno se questa catechesi vi è sembrata utile un like magari un commento se non sono iscritti in descrizione al canale e la condivisione che possono essere di enorme giovamento a che questa catechesi raggiunga un numero maggiore di anime Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga sempre laudentur Jesu set Maria